Cos'è? Cos'è? Che cavolo sta succedendo? Ragazzi, è stato bello conoscervi. Oh mio Dio, che cavolo sta succedendo? Forse non dovevo attivarla. Oh mio Dio, ma che cavolo? Nuove TNT, nuove esplosioni e tutto questo solo sul canale di bella faccia. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video. Qui è bella faccia e come state? Allora, siete pronti per delle nuove esplosioni? Io sono super pronto. Guardate che roba, guardate che TNT. Questa qui addirittura ha un teschio e questo qui ha degli asteroidi che cascano sopra la terra. Non siete pronti, non siamo pronti per queste TNT. Comunque, ho degli annunci veramente importanti da farvi. Allora, vi ricordo che è uscito il mio nuovo libro. Trovate il link qua sotto per acquistarlo ragazzi, è incredibile. E poi faremo dei raduni. Volete che ci incontriamo? Io sono contentissimo. Se volete incontrarmi ragazzi, segnatevi queste date. Il 24 aprile sarò a San Marino, il 30 aprile sarò a Roma e il 7 maggio sarò a Milano. Trovate qua sotto tutte le info ragazzi, qua sotto mi raccomando portate le vostre magliette, i vostri libri, così li potrò autografare. E mi raccomando non mancate perché ci faremo tantissime foto insieme. Ok, allora, direi di cominciare. Ah, sperando che abbiate già lasciato un like e che vi siete già iscritti, mi raccomando eh. Iniziamo perché questa TNT, queste TNT saranno incredibili, ma che cavolo è? Una TNT cacca? Speriamo proprio di no. TNT cacca gigante! Ok, iniziamo. Con quale potrei iniziare? Beh, con tutte perché le ho già tutte qua nel mio inventario. Andiamo in un posto al sicuro per farle esplodere tutte insieme. Ok, questa TNT si chiama nuvola di pietra, penso. Non lo so, sono una frana in inglese. Ok, vediamo un pochettino. Sembra un globo. E nient'altro, iniziamo, dai, ma... Ma che cavolo... Ma che... Ho capito. Ragazzi, ho capito, guardate. Oh, perché sta diventando notte? Wow! Che cavolo! Che cavolo è successo? Oh! Oh! Oh mio Dio! Ragazzi! Oh mio Dio! Questa TNT ha trasformato tutto in ghiaccio e mi ha dato l'entestra tre! Ma che cosa? Ok! Ha trasformato tutto in ghiaccio, ma... ma... ma è... ma è... ma è bellissimo! Ho sempre desiderato pattinare sul ghiaccio! Tarra tarra ta 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 ta... E adesso posso pa pattinar! Non ci sono assolutamente i creeper. Questo che vedete è una cacchina verde. Ok, devo dire. Oh, salve! È una festa qui? Oh, mamma! Wow! Quindi mi ha dato lentezza e ha trasformato tutto, guardate, in ghiaccio! Ma che bello! È fantastico! Ciao, pecore! Come state? Ok, quindi questa TNT trasforma tutto in ghiaccio. La prossima TNT che vedete è proprio qui nelle mie mani. E si chiama Helix. Vediamo un'elica, tipo, che è? Oh! Ho indovinato, forse? Oh! Oh! Ah! Mio Dio! Guardate che cavolo sta succedendo! Oh, mamma! Oh, ma che cavolo! Non ci posso credere, ragazzi! Non ci posso credere! Si stanno sdoppiando! Oh, cavolo! Oh, mio Dio! Che disastro creato! Oh, mio Dio! Ok, io non c'entro niente, eh! Oh, la fine del mondo! La fine del mondo! Guardate quante TNT! Ok, ops! Eh, non l'ho fatta apposta, mamma! Dopo metto a posto, eh! Promesso! Oh, cavolazzo! Oh, mio Dio! Questa TNT si è divisa in tante TNT che hanno diviso in tante TNT che si sono divise in tante TNT che hanno generato TNT, TNT, TNT e ne ha fatto esplodere tutti! Ok, wow! Wow! Questa è veramente distruttiva! È meglio buttarla via, eh, Minecraft! Ok, vediamo! Quale usiamo adesso? Vediamo! Questa qui! Questa qui! Sicuramente sarà una TNT che genera fuoco! Ma guardate che distruzione che ho creato! Si stanno ancora dividendo! Ragazzi, ma ho visto delle TNT là! Ma che cavolo! Ok, stiamo qua nel deserto così non creiamo danni! Abbiamo questa TNT! Coniglio, vuoi provarla? Tieni! Buona fortuna! Arrivederci! Oh, mio Dio! Coniglio, stai attento! È meglio che scappi! Perché questa qui è una TNT che genera fuoco! 3, 2, 1... Eh, che ca... Oh! Che cavolo! Oh! Oh, mio... Oh, mio Dio! È una TNT dell'inferno, ragazzi! Guardate che roba! Ha generato lava! Ha generato netherrack! Ma cosa più brutta! Ha generato un sacco di ghast puzzoletti! Oh, mio Dio! Guardate che roba! Ok, non vorrei avere la casa là sotto, eh! Sarebbe bello metterla sotto la casa di un nostro amico, eh! Ok, quindi questa TNT genera l'inferno! Fantastico! Nelle mie mani una TNT verde! Che si chiama Jungle TNT! È una TNT della giungla! Che cavolo vuol dire? È un orangotango! Spawny! Vediamo un pochettino! Sono veramente curioso! Cosa succederà con questa TNT? Vediamo un po'... Esplosione imminente! Ho detto esplosione imminente! Oh! Wow! Non è successo nulla! Oh! Oh! Oh mio Dio! Oh! Oh mio Dio! Si stanno rompendo le piante! Che cavolo sta succedendo? Oh! Oh mio Dio! Oh! Oh! Ah no! Ma stiamo scherzando! Ragazzi! Ma ha generato una giungla! Ma io ero nel deserto! Ragazzi! Ha generato un bioma! Mi prende in giro? Ragazzi! Ha generato la giungla nel deserto! Non ci posso credere! Ma questa è la TNT più verde del mondo! Ma è bellissimo! Ci vorrebbe una TNT anche nel nostro mondo eh! Perché le foreste stanno scomparendo! E quindi sarebbe veramente fantastico mettere questa TNT anche da noi! Eh! Minecraft! Minecraft! Quanto hai da insegnare? Ok! Questa TNT ha generato una giungla! Chissà se c'è anche il tempio della giungla eh! Fantastico! Indiana Jones! Bella faccia! Non ha voglia di esplorare! Perché ci sono altre TNT! Ok! Vediamo! Io direi di provare questa! TNT compressed! Una TNT compressa! E direi di farle provare alle nostre amiche pecore! Amiche pecore! Provate questa TNT! Dai! Vediamo un po' che succede! Vediamo! 3, 2, 1! Che succederà? Non si sa! Oh! 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 Ops! Oh! Oh! Ma che cavolo! Oh! Ma una TNT! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ce ne sono altre! Ce ne sono altre! Attenzione! Attenzione! Cavolaccio! Oh! Cavolaccio! No ragazzi! Oh mio... No! No! Mi addio! Che cavolo! Addio computer di bello... Ah! Ma cosa sta succedendo ragazzi? Non finisce più! Oh mio Dio! È finito! Oh mio Dio! Ci sono TNT dentro! 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 Oh mio Dio! Oh mio Dio! La mia giungla! Basta! Ma quante ce ne sono! Ce ne sono troppe! Non finiscono più! Ragazzi! Ma non finiscono più! Guardate che roba! Se appena esplodono... Si generano... Delle altre TNT! Ok! Ho distrutto Minecraft! Oh! Guardate i blocchi che saltano in armi! Ma che cavolo è la pioggia della sabbia? Oh! È finito! È finito! Ok! La foresta è salva! La foresta è salva! C'è solo della sabbia! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia! Questa qui è veramente terribile! Ok! Vediamo la prossima! Ok! Direi questa che sembrava una cacca gigante! Però che non è una cacca! È una casa! Ricordiamo! E io vorrei farla proprio qui! Al posto di questo cactus! Vediamo! Si chiama Magione? Non mi dire che viene fuori una Magione! Oh! Bella! Ma che bella casa! Oh mio Dio! Le TNT sanno costruire meglio di me! E questo non mi piace per niente! Wow! Ma da dove si entra? Bella questa casa! Oh! Ma da dove si entra? Da qua? Eh! Giungla! Dovrei entrare! Scusami un po', eh! Vabbè! Mi creo una porta io, eh! Non ci credo! Addirittura! La spada di nederite! Le cose di nederite! Il carbone dentro! I libri! I blocchi! Ma questa è la casa dei miei sogni! Ok! Chest! Che è qua? Che è? Biscotti! Biscotti gratis! Sì! E qua che è? Altri biscotti? Biscotti gratis! Ma che bella questa casa! È fantastica! Ok ragazzi! Abbiamo anche la TNT che genera case! Ma se io dovessi generare una casa dentro una casa! Cosa succede? E domanda migliore! Perché devi farlo bella fazia? Oh! Oh mio Dio! Ok! Una casa dentro una casa! Mettiamo più case dentro più case! Ma perché bella pazza? Devi rovinare questa casa! Era bellissima! Oh! 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 Ok! Una casa dentro la casa! Vediamo! Fatemi passare! Vediamo lo schifo che ho creato! Ok! Fantastico! Direi che questa la mettiamo giù! E ne proviamo altre! Salve pecore! Volete provare questa? Si chiama Doom's Day! Vediamo un po'! Oh mamma! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Oh! Ma piove ghiaccio! Piovono meteoriti! Si salve che può! Ma cosa sta succedendo? Che cavolo sta succedendo? Oh mio Dio! Ho distrutto Minecraft! Oh cavolazzo! Oh mio Dio! Guardate che roba! Sta piovendo vetro! Sta piovendo vetro! Oh mio Dio! Guardate i creeper! Super carichi! Sono stati colpiti! Guardate gli asteroidi! Ok! Devo dire! Non è stata una buona idea! Mettere questa TNT! Oh mio Dio! Che disastro ragazzi! Guardate cosa sto creando! Che disastro! Mamma mia! La fine del mondo! Ok! Ho dovuto cambiare mondo! Fantastico! Ho distrutto tutto! Proviamo questa super nova! Magari mettiamoci in creative! Altrimenti facciamo una fine orribile! Super nova! Oh mio Dio! La super nova! La stella che esplosa! Vai! Facci vedere super nova! 3, 2, 1! Non voglio esplodere! Che succede? Sei una super nova oppure no? Wow! Oh mio Dio! Addio computer! È stato bello conoscerti! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio gli animali! Oh mio Dio gli animali! Ho distrutto tutto! Ragazzi! Oh mio Dio! È tutto bloccato! Oh no! Gli animali sono cascati! Fantastico! Ho distrutto tutto! Se guardate! Guardate la super nova! Guardate l'acqua che scende! L'ossidiana avevamo lasciato! Ragazzi! I polli stanno scendendo! È l'apocalisse! Oh mio Dio! Che TNT distruttiva! Che cavolo abbiamo fatto! Guardate che roba! Ragazzi! Abbiamo distrutto tutto! Guardate che roba! È gigante! È gigante! È una super nova che esplosa! Wow! E anche oggi non potevo non disturbare i miei amici villager con questa TNT! Guardate! È al nome di una città! Quindi sarà veramente bello metterlo qua! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ho distrutto il villaggio! L'ho arredato però! Ho arredato! Bella quella casa sott'acqua! Oh mio Dio! Ho arredato il villaggio ragazzi! Vi piace? Nuove case gratis! Sì! Sarà veramente difficile arrivare qua su! Ok! Non hanno nulla! Però almeno non pagate l'affitto! Va bene? Ecco qua! Guardate quante belle città! Che fine hanno fatto le case! Dai! Però devo dire! L'ho arredato bene questo villaggio! Ma se dovessi metterla qua? Che non va su? Che cavolo succede? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Golem addio! Golem! Oh mamma! No Golem! No Golem! No Golem! Ci penso io! 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 Ecco! Sento dei villager che sono morti! Fantastico! Ecco! E' un po' non open space! Però penso che vi piaccia eh! Ok villager? E se dovessi fare una cosa del genere? Oh mio Dio! E' meglio andare via ragazzi! Cavolaccio villager! Salvati! Oh mio Dio! Oh! Oh! Cavolaccio! Ok! E mi odieranno per il resto della mia vita! Però è stato divertente! Ok! Questo si chiama tempesta di meteoriti! Vediamo un po' sopra il nostro nuovo villaggio! Ok! Tempesta! Oh mio Dio! Stanno arrivando! Stanno arrivando le meteoriti! Attenzione! Oh mamma mia! Oh! Oh cavolaccio! Guardate quante meteoriti che stanno arrivando ragazzi! E boom! Oh mio Dio! Poverini questi villager! Prima troppe case! Poi zero case! Guardate ragazzi il villaggio! Si sta completamente distruggendo! Oh cavolaccio! Ok bella faccia! Sei un vero disastro eh! Nella salvaguardia dei villager! Oh mio Dio! Guardate addirittura! C'è tolgono l'acqua! Da quanto sono potenti! Oh mamma mia! Ho distrutto tutto! Scusate villager! Non l'ho fatto a posto! Ah! Un altro bel villagino abbiamo qua eh! Proviamo a mettere chunk TNT! Questa TNT sicuramente distruggerà un chunk! Ne sono veramente sicuro! Mi dispiace villager! La vostra vita era bella prima di conoscere bella faccia! Lo so! Lo so! Oh cavolo! Oh! Ok! Ok! Avete le ali! Spero di sì! Il golem è sopravvissuto! E sta lottando contro un enderman! Oh mio Dio! Abbiamo distrutto un chunk! Una TNT che distrugge un chunk! Ah! Però almeno è rimasta la casa integra! Eh sì! Sì! È meglio andare via! Qui c'è anche una piramide che vuole una TNT della piramide! La pioggia! Vediamo un po'! Vai! Oh mamma! Che succede? Che? Cos'è? Cos'è? Che cavolo sta succedendo? Ragazzi! È stato bello conoscervi! Oh mio Dio! Che cavolo sta succedendo? Forse non dovevo attivarla! Oh! Ma che è? Oh mio Dio! Ma che cavolo! Oh mio Dio! Ma è stata la cosa più bella della mia vita! È stata la cosa più bella! Un film! Sembrava un film! Cioè guardate! Ma che roba! Ma che roba la lava! È stato epico! Ok! Non esiste più la piramide però ne è valsa la pena! No! No! Devo assolutamente rifarlo! È stato troppo epico! Quindi il laser ve lo meritate! Cioè è stato epico! Cioè sentite già la musica? È stato troppo epico! Arriverà dal cielo! Da un momento all'altro! È partito! Il laser! Addio! Eccolo! Eccolo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È troppo epica questa cosa! È troppo epica questa cosa! Infine l'ultima TNT si chiama Estinzione! Proprio così! E quindi Villager mi dispiace! Vediamo l'ultima TNT del giorno! Assistiamo all'estinzione! Ah! Fantastico! Oh mio Dio! Questa TNT ha ucciso tutti i mostri! Tutti! Tutti! Non ci sono più i mostri! C'è un silenzio assordante! Avete capito? Nessuno che rida la mia battuta! Ci sono degli squid che sono rinati! Ragazzi! Spero che queste TNT vi siano piaciute! Fatemi sapere qual è la TNT che vi è piaciuta più di tutti! Immaginate già quale sarà la mia! Mi raccomando! Ci vediamo in un prossimo video! E state attenti ad usare queste TNT nei vostri mondi! Da me a tutti! Ci vediamo in un prossimo video di Minecraft! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.